Ciao a tutti, in questo episodio di infermieristica in due minuti vedremo come si aspira correttamente un farmaco da una fiala. Iniziamo valutando l'integrità, la data di scadenza e la prescrizione relativa al farmaco. Laviamo e disinfettiamo le mani, frizionandole con soluzione alcolica. Svuotiamo il cappuccio dall'eventuale presenza di farmaco. Ora, utilizzando una garza, mantenendo il punto colorato verso di noi, con un colpo deciso apriamo la fiala. Smaltiamo immediatamente il tappo in un contenitore per taglienti. Inseriamo l'ago al centro della fiala, senza toccare i bordi. Tenendo la fiala con due dita, la capovolgiamo per facilitare l'aspirazione. Durante l'aspirazione del farmaco, dobbiamo porre particolare attenzione a non toccare la parte interna dello stantuffo. A questo punto, togliamo l'eventuale aria entrata in siringa. Verifichiamo che la quantità di farmaco aspirato sia corretta, ricontrollando la prescrizione e l'etichetta del farmaco. Sostituiamo ora l'ago, smaltendo subito quello utilizzato per aspirare. Al termine della procedura, disinfettiamo nuovamente le mani. Anche per questo video è tutto. Non dimenticatevi di iscrivervi. Ciao! Ciao!